il treno regionale 50 26 di treno orde proveniente da cremona e diretto a pavia delle ore 5 e 23 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 50 28 di treno orde proveniente da cremona e diretto a codogno delle ore 6 e 0 7 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a ponte dadda pizzighettone maleo il treno regionale 50 27 di treno orde proveniente da codogno e diretto a cremona delle ore 7 0 7 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cavati gozzi il treno regionale 51 13 di treno orde proveniente da pavia e diretto a cremona delle ore 20 e 39 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a cavati gozzi attenzione avvisiamo i viaggiatori che il treno in partenza dal binario 2 non fa servizio viaggiatori allontanarsi dalla linea gialla attenzione avvisiamo i viaggiatori che il treno in arrivo al binario 2 non fa servizio viaggiatori allontanarsi dalla linea gialla